Abbiamo poi un ministro per l'autonomia che è il ministro più inconcludente e più evanescente della storia repubblicana, primo nemico del Sud, pur essendo meridionale. Mi riferisco al ministro Fitto. Vi annuncio che faremo domani mattina una conferenza stampa per spiegarvi in dettaglio per quale motivo prenderemo delle decisioni forti contro il ministro Fitto. Ne parleremo domani mattina. Intanto è un ministro che nell'ambito del PNRR nazionale ha tagliato, credo, 350 case di comunità, 1800 posti letto in terapia intensiva. Apprendiamo due o tre giorni fa che ha rinviato di due anni l'acquisto di strumenti moderni per la sanità italiana. Ecografi, mammografi, risonanze magnetiche, non si acquista nulla per i prossimi due anni. Una vergogna, un delitto, un delitto, in questo caso nei confronti della sanità nazionale, ma molto di più nei confronti di ospedali sottodotati in tutta l'area meridionale.